La nostra storia recente raccontata dai suoi ultimi protagonisti nel libro Io sono l'ultimo, lettere di partigiani, curato da Stefano Faure, Andrea Liparoto e Giacomo Papi, edizioni Einaudi, presentato il 5 novembre a Palazzo Lascaris dal Comitato Resistenza e Costituzione. Sono intervenuti il Vice Presidente del Consiglio regionale Roberto Placido, gli storici Claudio Vercelli, Istituto Salvemini e Bruno Maeda, Università di Torino, e il partigiano Giuseppe Gastaldi.